Ma sai è stata una settimana difficile, si è parlato tanto e chissà quando si dice tante cose è sempre poi complicato giocare qui in questa situazione. La società mi ha sempre mostrato la disponibilità di volermi bene, di essere qua, è un gruppo solido e noi abbiamo dimostrato tanta solidità, una buona partita e ringrazio Barza, ciao Barza, se il cuore lo fa Barza è buono sicuro. Non è un problema di Dussan, è un giocatore fortissimo, ci ho fatto da 30 anni, si è un grande attaccante di 21-22 anni e lei migliora la Juve, è positivo. Quindi è una squadra, ripeto, già più solida e noi ci abbiamo messo a disposizione, un grande giocatore come Dussan, abbiamo fatto molto movimento, tocchi di palla, cambi di gioco in una parte dell'altra. E' un momento di disposizione del Mises, devo giocare a gioco, devo andare in banchina e ripeto, è una stagione molto molto importante. Dopo soltanto una settimana non è una delle migliori. Poi ci sono le partite, si gioca e si fa bene, i tifosi poi li applaudono e oggi mi sento bene dopo questa settimana e dobbiamo continuare a fare così bene per il prossimo campionato. Grazie a tutti.